Dal 10 al 14 marzo durante IDS entra nell'universo dell'innovazione con Stern Weber. Scopri tutte le ergonomie della gamma, compreso il nuovo modello ibrido di alta fascia e l'ultimissima novità S380 TRC con poltrona rotante e poggia gambe motorizzate. S380 TRC incorpora anche la console full touch con funzionalità multimediale interattive e software di ultima generazione per dialogare con i sistemi integrati dall'igiene alla radiologia a bordo riunito e la nuova telecamera HD. Visita lo stand Stern Weber anche per toccare con Manu il futuro. Partecipa alla dimostrazione dal vivo con Google Glass.